Flavia Cannolicchio, grande successo per il servizio dell'assistenza di prossimità emergenza coronavirus, un servizio fortemente voluto dal Comune Editore del Greco. Come procede il vostro lavoro? Bene, bene, stiamo avendo molte richieste. Abbiamo avuto fino ad ora un 75 richieste più o meno e per chitti alimentari, per chitti igienici abbiamo risolto tutte le richieste, anche quelle fondamentalmente che non sono di competenza nostra, come ad esempio aiutare le persone con il disbligo di tamponi, le persone ci hanno chiamate per sapere come fare per i tamponi, per i vaccini e noi comunque non avendo neanche un canale privilegiato con l'ASL riusciamo tramite mail e cose del genere a parlare con l'ASL e cercare di sollicitare queste situazioni per aiutare le persone. Quali sono le principali richieste? Le principali richieste chiedono molto chitti alimentari, persone che sono in isolamento, che purtroppo non possono uscire di casa, famiglie intere con minori, anziani e noi in uno o due giorni cerchiamo di risolvere e di portare anche chitti a casa, mentre per quanto riguarda il resto delle informazioni che ci chiedono, ci chiedono fondamentalmente informazioni su tamponi, ci chiedono molte informazioni su tamponi, ci arrivano tante chiamate sui tamponi e ultimamente anche sui vaccini e noi cerchiamo di fare il meglio per risolvere tutto. Da quanti giorni è attivo già questo servizio? Il servizio è attivo dall'11 febbraio, quindi oggi è poco più di un mese che è attivo e abbiamo ricevuto più o meno un centinaio di chiamate se non di più. Qual è il numero verde da chiamare e quali sono gli orari? Allora il numero è attivo tutti i giorni, anzi da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 e c'è una reperibilità fino alle 20 e il numero da chiamare è 800 17 16 36.